Sono alle 6.30 di mattino, e anche vi do il buongiorno che non me lo meritate, almeno alcuni, non tutti. Comunque sono alle 6.30 del mattino e niente, sono 117,9, sono sceso ai 200 grammi da ieri, però ieri ho proprio sgarato in direzione perché ho avuto una Red Bull, ho avuto una birretta, ho avuto una Coca-Cola, non sono mangiato poco, tramezzino, oggi mangio un bel petto di pollo in salata, e niente, 117 kg è il nostro obiettivo, siamo arrivati, forse siamo andati a rimanerci, non dovrei fare nessuno sgarro oggi, non si fa la domenica di sgarro, quando sono a 116 forse, tutto va bene, si è arrivato all'obiettivo di essere 116, sarebbe veramente tanto dopo essere stato 120, 223 kg, veramente tanto. Pesso alle merde che sminuiscono il mio impegno, pensate voi, 123, 124 kg e poi fate la dieta, perché in realtà se riuscite tanto di cappello, chapeau, sono le prime a complimentarmi, a complimentarmi, però non è facile, che vuol dire che tu hai scelto una grande decisione in te stessa, hai detto io voglio dimagrire, voglio scendere i piedi, poi provate a fare la stessa cosa bevendo, smettendo di bere alcool e facevano la dieta insieme, cioè tutte e due cose correlate, poi adesso sei riuscito oppure no, e sei riuscito tanto di cappello, torna di petto, però non è facile, perché sai che al giorno domani tu decidi di scendere di peso, se ti toglierti il vizio di bere, non è facile per niente, sto riuscendo con le mie forze e mi auguro di andare avanti e di poter migliorare la mia vita ovviamente. Quindi esorto ragazzi e ragazze a dire una cosa, si sta cominciando un percorso di dieta, prima di tutto, rivolgetevi a un professionista, non fate come me per una dieta fai a te. Poi quando cosa vi sembra impossibile da superare, come in questo caso per pesare tantissimo, soprattutto per essere vittime della dipendenza, non mollate, da qualche parte bisogna iniziare, e per inizio bisogna avere una forza di volontà, perché altrimenti io, io, chiunque altro non ve la possono inculcare, dovete essere voi con la vostra testa a dire oggi smetto, oggi faccio questo, oggi mi riducco questo, bevo meno, mi drogo di meno, mangio meno, e così piano piano, con piccoli passi, riuscirete ad arrivare ai vostri obiettivi. Se non lo fate, paziente, vi suggerete, questo è il fatto, vedete capito? Poi scatta la molla che dice, anche se prende tanto tempo, io voglio migliorare la mia vita, basta.